e siamo pronti sarà pronto anche james si è pronto sarà lui o non è lui il maestro del basket non si sa buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo incredibile appuntamento con le mega party tots online e con le mega partite con chan lee e il tutto andremo a fare sicuramente non ho capito dove perché non si è capito bene andiamo a farlo nel nostro territorio aiuto metto più a star eccala la c'è il signorino spam ci va lontano per tirare le botte io giustamente con chun lee che tiro i pugni sono proprio tutto da vedere e le mamma mia che vittoria vittoria proprio arcaia salto dalla felicità e con la grafica bella farò ancora un gamme playa con la grafica brutta con la grafica di una volta non bisogna diciamo sputare nel piatto dove tutti noi abbiamo mangiato mentre chun lee fantasticamente immortale con i suoi calci tira quelli che diciamo bisogna sfruttarli a pieno e il signor james ci odierà a morte grande vittoria vorrà fare una rivincita signora si spera spero io tutte le volte che ho perso che 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 è pronto pronto james facci pronto commento grande mago mi dispiace caro james è caduto male perché io mi riprendo chun lee dato che questo è l'episodio chun lee ma giustamente sono una bellissima persona lo prendo con un altro costume e anche lui è una bravissima persona e riva ancora in quel cacchio di posto ovviamente il fulmine cade due volte dove è caduto e già ci siamo capiti diciamo questi bellissimi e storici verbi e detti del giappone medio orientale feudale che botta che mi stattirà adesso il signorino ha una potenza alla cara chun lee con i calci davvero in piedi e tira giù tantissimo che io salto ancora dalla gioia e chi non salterebbe dalla gioia sto a vincere guardate capito mo che faccio il salto bello che mi prende con la quaccia su can judo takedown anche se credo che lei non facci judo ma tant'è boh ci sono ancora arrivato a fare mango è una super mozza ma i calci sono molto potenti nelle cosce molto muscolose di chun lee carissimo jane è stato bello adesso credo che lui se ne vada ampiamente fuori dai coglioni perché giustamente due volte che perde con io che prendo chun lee e invece no sa che questa sarà l'ultima partita con james perché sono il baglio e si possono fare soltanto le robe fino a tre e questa volta ce la prendiamo così magari è il posto che mena sfiga andiamo da un'altra parte invece no è proprio focalizzato in quel punto infatti mi sa che o ha perso svari altri incontri altrimenti è una delle primissime partite che sto facendo online questo qua molto molto tranquillamente perché c'è a zero punti a sacca sacca zucca mi girano le balle perché non ce la faccio ad arrivare ti sarebbe piaciuto non riesco ad arrivare al punto di far la super mega mossa perché non voglio fare salto dalla gioia no invece questa volta sono molto seria perché bisogna rispettare il proprio avversario no stavolta non me l'hai fatta all'acqua sacca e zucca chiedo ovviamente umilmente scusa anche se faccio bene o male sempre quelle mosse ma chun lee ha la potenza muscolare delle gambe incredibili quindi diciamo che si usano molto bene anche quelle carissimo james è stato un onore batterti tre volte questa volta salto di gioia si e che cacchio mi odierà molto quel personazzino qua il signor james meno male che non possono non possiamo mandarci messaggi o si può con l'applicazione non lo so e quindi ragazzi userei dire di chiudere qua questo incredibile episodio perché una volta che vinco tutte e tre le partite in un cacchio di video bisogna sbuzzare i grandi champagnoni e ci vediamo alla prossima con la plastic challenge con king of fighter alla prossimo lunedì a